Per qualsiasi cosa ragazzi lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdervi niente dei video futuri Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa Soprattutto ragazzi cliccate sulla campanella ozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri Buona visione Vai vai Sono qui Ezio Abbiamo trovato l'arcivescovo salviato Si è barricato all'interno di quella villa Usa alcuni dei miei uomini per aprirti la strada Quindi trova il modo di scalare il muro per aprire la porta Comandare un'armata tutta mia Un piacevole diversivo dal solito agire in furtività Mi piace Sanguisugi appena pescate a chi serve un salasso Una strana sensazione Aspettate amico Vi ho messo Assassino Queste mura hanno retto per cent'anni e reggeranno per altri cento Non sprecare la vita dei tuoi uomini Vattene, vattene via Qui non troverai che la morte Torna indietro Sono sicuro Laggiù, eccolo Addosso Si sono messi contro la gente sbagliata Cosa mi sconderà? Bene Allora muori Laggiù 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 Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Mi senti? Finito! Voi templari, sempre a dire le stesse cose. Credi che io mi spaventi per qualche mercenario? Dai, dai, non andrà lontano! Dovresti. Devo mandare i tuoi resti a quell'ubriacone di Norio? Ma a che servirebbe? Di te non resterà niente da riconoscere. Hai un piano notevole. Urlare idiozie mentre mandi questi uomini a morire! Sono un uomo ragionevole. Ti faccio una proposta. Torna indietro e richiamerò i miei uomini. Mi spiace, amico. Sei nel mio elenco. Il tuo destino è segnato. Non si trattano così gli opti. Ma che cazzo? Guardi! A me! Bloccatelo! Bloccatelo! Fermatelo! Prendetelo! Prendetelo! Dov'è, Jacopo? Sa che lo stai cercando. Esce solo con le tenebre per incontrare gli altri. Questo riguarda il quando. Ora dimmi dove. La fede dovrebbe dare conforto. Non pena. Requiescate in pace. La fede dovrebbe essere in pace. Grazie.